ciao a tutti benvenuti e ben ritrovati qui sul canale della cucina chimica eccoci ad un altro appuntamento dei video di molecole stupefacenti in questa playlist andiamo ad esplorare le caratteristiche biologiche di alcune fra le sostanze di abuso ricordo che tutti i video sono al solo scopo di affrontare le caratteristiche chimiche farmacologiche di questi composti e saranno di carattere divulgativo e nella descrizione poi troverete tutti i riferimenti bibliografici sperando sempre di non dimenticarne nessuno se vi interessa dare un'occhiata ai precedenti video su cocaina anfetamina metanfetamina extasi opium morfina eroina insomma siamo a buon punto nella playlist trovate tutti i link in descrizione continuiamo il viaggio fra gli opioidi e andiamo a scoprire qualcosa di più su uno degli opioidi di sintesi più potenti e più temuti fra quelli di abuso ovvero il fentanyl come sempre ecco qui la nostra classica scaletta d'inizio video che serve per selezionare gli aspetti che volete approfondire parleremo della storia del fentanyl la struttura chimica e il suo meccanismo d'azione e poi effetti sulla salute ed applicazioni in terapia sul meccanismo d'azione faremo un breve cenno ma se volete approfondire andate a guardare il video sulla morfina dove abbiamo affrontato tutto il discorso del sistema recettoriale opioide la storia del fentanyl è una di quelle storie della ricerca farmacologica che ha sempre fascino ed interesse per chi vuole capire come vengono pensati e trovati vari composti siamo verso la fine degli anni 50 il dottor jansen che ha fondato poi la famosa azienda farmaceutica jansen che ora si trova sotto la johnson e johnson insieme al suo team si era impegnato a trovare dei composti analgesici potenti e con una rapida azione che trattassero il dolore nel 1953 si conosceva bene la struttura della morfina come abbiamo visto già nel video specifico e si conosceva anche la struttura della meperidina vi ho messo qui entrambe le strutture così potete osservare bene dunque il team di jansen credeva che la parte sottolineata in rosso delle molecole questa qui fosse il farmacoforo cioè la struttura minima alla quale è deputata l'azione farmacologica quindi iniziarono a lavorare la modifica di questa struttura e ottennero il fentanyl molecola molto ripofila passa bene la barriera metoencefalica e ha un rapido onset e anche un alto indice terapeutico nel 1963 viene registrato in europa e poi nel 1968 negli stati uniti inizia la commercializzazione di una formulazione endovenosa utilizzata come analgesico ecco qui la struttura chimica del fentanyl possiamo dire che fa parte della classe delle quattro anilo piperidine che sono dei correlati della meperidina di cui vedete a destra la struttura meperidina che ricordiamo essere sempre un opioide di sintesi esattamente come il fentanyl a questa classe convergono anche altri derivati infatti esistono molti analoghi del fentanyl per uso umano come al fentanyl remifentanyl sufentanyl elofentanyl poi vengono anche usati in campo veterinario con gli animali selvaggi e abbiamo tipo il car fentanyl e il teofentanyl il fentanyl è un composto con una breve durata d'azione e agisce sul recettore opioide mo lo vedremo meglio poi nel meccanismo d'azione comunque in terapia le vie di somministrazione di questo farmaco sono diverse per os cioè per bocca come pastiglie oppure in formulazione di lollipop poi abbiamo la via endovenosa e la via transdermica sotto forma di cerotti che vengono venduti ovviamente sotto stretto controllo medico e dietro presentazione di ricetta qualcuno potrebbe chiedersi che senso ha fare un lollipop bene il lollipop è a tutti gli effetti una forma farmaceutica viene utilizzato per soggetti sotto trattamento con dolore cronico che sono opioido dipendenti e che sono intolleranti alle iniezioni la potenza farmacologica del fentanyl e ancora di più dei suoi derivati è impressionante in alcuni studi si parla dalle 100 anche alle 500 volte più potente della morfina fra fentanyl e i vari derivati e dunque è anche più potente dell'eroina il suo uso è quindi soprattutto come analgesico nella gestione del dolore cronico severo in molti casi si tratta di dolore neoplastico e ha un uso anche come coadiuvante dell'anestesia regionale o generale se lo trovate in questa playlist è perché negli ultimi anni si è assistito a un graduale incremento del suo uso illecito soprattutto in nord america e in europa e i dati sono alquanto preoccupanti ma ne parleremo fra poco brevemente il meccanismo d'azione dunque il fentanyl abbiamo detto agisce da agonista del recettore mu opioide ma può anche legarsi ai recettori delta e k i recettori sono distribuiti nel cervello nel midollo spinale in altri tessuti gli effetti farmacologici del fentanyl sono esercitati principalmente nel sistema nervoso centrale lo abbiamo già visto nel video della morfina vi invito a guardarlo per ulteriori dettagli ma cosa accade quando una molecola si lega su questi recettori analgesia anestesia dovuta alla stimolazione del recettore mu 1 poi sono lenza rilassamento sedazione affaticamento possono insorgere anche vertigini o ansia alle volte euforia però minore rispetto a quello che viene provocata dalla morfina o dall'eroina importante anche la sedazione delle vie respiratorie infatti il respiro si fa sempre più lento e ciò avviene per la stimolazione del recettore mu 2 e ancora altri effetti sono la riduzione della coscienza nausea vomito costipazione per blocco della muscolatura intestinale ritenzione urinaria bradicardia cioè battito rallentato del cuore l'abuso del fentanyl può anche evocare dei sintomi insoliti come l'amnesi anterograda oppure attività similconvulsive o ancora la formazione di schiuma dalla bocca l'astinenza da fentanyl si caratterizza con manifestazione di sudorazione ansia diarrea dolore crampi un po tutti effetti opposti rispetto alla sua azione farmacologica applicazioni terapeutiche un pochino già le abbiamo viste dunque già dai suoi inizi il fentanyl era stato pensato per avere in terapia dei composti con azione antalgica più potente e con effetti euforizzanti o tossicomanigeni minori o nulli al giorno d'oggi il fentanyl a seconda delle formulazioni viene usato come analgesico narcotico come coadiuvante nell'anestesia regionale e generale nella neurolepto analgesia e anche nella gestione del dolore cronico persistente grave soprattutto abbiamo detto quello neoplastico dove chiaramente si richiede una somministrazione continua di oppioidi per un lungo periodo di tempo e non può essere controllato da altre strategie analgesiche abbiamo detto una parola particolare neurolepto analgesia che è una parola composta può sembrarci complessa si tratta di una forma di sedazione con cui si può assicurare al soggetto una buona analgesia cioè sostanzialmente non avverte il dolore riduce la vigilanza e il contatto con l'ambiente circostante ma non va ad abolirne la coscienza quindi il soggetto può ancora interagire seppur in maniera ridotta se invece al mix di farmaci si aggiunge il protossido d'azoto il soggetto perde la coscienza e otteniamo la neurolepto anestesia quindi abbiamo visto neurolepto analgesia e neurolepto anestesia ora vabbè senza addentrarci troppo in altri campi rimaniamo con il focus del video che è il fentanyl le formulazioni contenenti fentanyl si possono dividere in roo che sono gli opioidi a rapido onset come formulazioni iniettabili compresse buccali sublinguali spray intranasali e poi quelli chiamati ftps ovvero fentanyl transdermal peces cioè formulazione a rilascio controllato come i cerotti transdermici che si usano su soggetti che necessitano di una analgesia costante quindi continua somministrazione del farmaco e costante anche nel tempo ci sono diversi cerotti e purtroppo alcuni di questi sono manomissibili e ovviamente chi ha intenzione di usare il principio attivo per scopi diversi purtroppo riesce ad estrarlo sono state descritte situazioni in cui i soggetti si procuravano illegalmente delle ricette per ricevere i cerotti di fentanyl e poi ne facevano chiaramente un uso illecito tipo usare più cerotti contemporaneamente masticarli ingerirli oppure inserimenti rettali ciò ci fa comprendere anche il forte craving cioè il desiderio che spinge i soggetti a fare le cose più impensabili pur di aggiudicarsi la sostanza quindi sostanzialmente i soggetti mettono al primo posto della propria vita il farmaco la sostanza d'abuso diamo un piccolo sguardo ora le problematiche l'uso in terapia è questo ma sono emersi dati allarmanti di medicina legale dove si evidenzia che negli ultimi due decenni c'è un crescente uso illecito di questa molecola in nord america e in europa altra problematica è che essendo una molecola di sintesi questa è facilmente prodotta nei laboratori clandestini quindi il fentanyl essendo anche molto potente rende le cose più complesse in quanto ne basta poca e quando viene prodotta in quantità più rilevanti questa immessa nel mercato nero fa abbassare il costo della sostanza di conseguenza l'accesso diventa più facile e molte persone ne diventano dipendenti sono sorte anche problematiche riguardo alla poliassunzione che poi è un problema comune con molte altre sostanze i soggetti sono lì che assumono dei mix di composti di sostanze e nel caso in cui il fentanyl venga assunto in associazione con eroina ad esempio molto spesso viene mescolato proprio con l'eroina per aumentarne la potenza a basso costo oppure spesso viene mescolato con la cocaina altre volte si assume con alcol o con altre sostanze in grado di deprimere il sistema nervoso centrale come ad esempio le benziozepine in tutti questi casi possono manifestarsi delle serie interazioni è stato anche inoltre riportato che l'uso di inibitori delle proteasi dell'hiv come per esempio i soggetti che sono in terapia antiretrovirale un farmaco di questi può essere il ritonavir ciò fa aumentare i livelli plasmatici riducendo l'eliminazione del fentanyl e quindi aumentandone la durata d'azione essendo una molecola molto potente il sovradosaggio può essere raggiunto facilmente e che cosa succede abbiamo situazioni di litargia depressione respiratoria coma arresto respiratorio e addirittura morte improvvisa che posso raggiungere per esempio a caso di un arresto cardiaco o anche per severe reazioni anafilattiche vi è un rimedio dunque sì il rimedio c'è ed è quello di somministrare un antagonista del recettore sul quale agisce il fentanyl quindi un antagonista oppioide del recettore mu però vi sono dei casi in cui se non si agisce in tempo chiaramente potrebbe rivelarsi inutile e dipende anche dall'eventuale associazione fra le sostanze perché come abbiamo detto prima in questi mix non si sa bene che cosa ci sia le overdose di fentanyl sono caratterizzate da depressione respiratoria reversibile con il naloxone però ecco dipende sempre dal mix delle sostanze ultimamente si è sentito anche parlare dell'associazione fentanyl e xilazina un'associazione che è davvero potente perché la xilazina è un anestetico per animali e rende le persone completamente assenti dal contesto tant'è che è stata coniata l'accezione droga degli zombie però attenzione questa accezione droga degli zombie è un'accezione di tipo giornalistico non ha nulla di scientifico intendiamoci anche perché ho trovato in vari fonti che a questa droga degli zombie si fanno risalire diverse tipologie di associazioni fra le sostanze di abuso ad ogni modo che cosa accade con fentanyl xilazina ecco qui un articolo sul sito della fda americana dunque questi soggetti che fanno uso di questa associazione rimangono fermi e piegati per diverso tempo in uno stato di totale inespressività incoscienza insomma diventa pericoloso sia per la loro vita dovuta all'uso del farmaco ma anche pericoloso per altri perché questi non si accorgono di nulla nemmeno di quello che gli accade intorno quindi possono anche accadere incidenti insomma sono scene davvero impressionanti dopo un uso ripetuto di fentanyl si sviluppano velocemente tolleranza e dipendenza e quando ne viene interrotto l'uso si manifestano i sintomi caratteristici dell'astinenza quali sudorazione ansia di arrea dolori ossei crampi addominali brividi pelle d'oca eccetera questo l'abbiamo visto perché sono tutti effetti opposti all'azione farmacologica del fentanyl il problema se vogliamo non è il fentanyl in sé ma è come lo si usa e anche il contesto il suo uso illecito e improprio e in costante crescita quindi si ravvisa veramente un bisogno di strategie di tecnologie nuove ed efficaci per ridurre il fenomeno e ridurre il danno eccoci allora siamo in chiusura questo è stato un video non molto semplice non tanto per il discorso farmacologico quanto per i dati allarmanti che ho visto chiaramente non mi sono voluto soffermare su numeri statistiche come sapete qui ci concentriamo più che altro sulle sostanze dal punto di vista prettamente farmacologico per fornirmi chiaramente un piccolo quadro sui composti e poi porre sempre l'accento sulla problematica delle sostanze di abuso se volete aggiungere approfondire qualcosa o dirmi che cosa ne pensate scrivetelo qui sotto nei commenti io sarò felicissimo di leggervi di rispondervi in quanto i feedback le critiche e le ulteriori informazioni servono a completare il contenuto di questo video e dei video in generale come sempre vi ricordo che se avete piacere di iscrivervi al canale e supportarmi è molto molto semplice basta cliccare su iscriviti e il gioco è fatto e se desiderate potete anche attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità è tutto sempre gratuito per qualsiasi informazione e curiosità scrivetemi alla cucinachimica chiocciola gmail.com e noi ci vediamo al prossimo video